che naturalmente sanno anche difendere, hanno qualità atletiche, di fiato per farlo, ci il Fonescava una gran palla, ma è sempre Ferretti a leggere in anticipo le azioni in questo avvio, la Pisana funziona in attacco, ma per ora va alla grande anche in difesa. Bene, poi è pressato da Martino, allora Palmieri, Palmieri se ne va, Ferretti in maniera energica con Mestiere, spalla a spalla, sempre lui, sta facendo valere tanto il suo fisico lì in difesa. Cervini quindi da Ferretti, stavolta con spazio per il tiro, che carica e fa partire, altro balde di Ferretti e non sono solo tiri d'alleggerimento questi. Lo stop è però imperioso in anticipo da parte di Cervini e Ammassari può spingere ancora andando da Ferretti! Cambio fascia Ferretti e va a fare il gol delle 5 a 4, importantissimo per l'ala della Pisana. Ancora avanti quelli di Di Pasquale.